ciao amore bentornato principe una ciliegina posso dove sei stato lavorare alle corse se poco la fa spiritoso buongiorno io ho lavorato sul serio ho tirato una scena difficilissima personaggio in costume generale si il regista è stato molto contento guarda che in cassa ci sono 18.850 li ho contati io evviva oggi è proprio la festa d'arte oh ma c'è una faccia eh sì ce n'avevo due stava all'università sotto spirito capirai ho rimediato solo 20 mila lire e voi quanto avrete le 100.000 del calosegno mica l'abbiamo incassato si abbiamo rimediato 20 mila lire pure noi stiamo a 40 mila qui minimo minimo pannaggio cagnano ci vuole un paio di 100 mila lire se no è inutile che ci andiamo andrà perché non te venni stocca d'orcio già ipotecata e te pareva ci avrebbe un'idea e beh fatta venire ma andrà che se te mica so io e l'idea mi è venuta è un'idea per la quale servirebbe un'abilità istrionica che non so se mi posso fidare di voi due ma sta volta fidamese è un'idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo ha castigato erburino più infame di tutti i burini ma così